Bene, noi stiamo selezionando una figura di Junior Utility Chef Facility Super Mega Copy Manager. Ah, in cosa consiste il lavoro? Super Mega Copy Manager consiste nelle fotocopie, ci sarò io che sono il capo supremo, più altri tre o quattro sopra di lei, e a turno le diremo di fare le fotocopie a altri lavori del cazzo noiosi e ripetitivi, a presente no? Sì, certo, ma volevo chiedere, ma come sono i turni di lavoro? Ma controllatamente spossanti, succhieremo la sua anima, la spremiamo come un limone, e poi quando finisce il succo la buttiamo nel cesso e assumiamo un altro limone. Ah, ma è perfetto! Eh sì, facciamo sempre così. Ma la paga è buona? Ma quanto sono birichini quelli come lei che hanno la faccia tosta persino di chiedere informazioni sulla paga! Come primo contratto comunque offriamo fra le 3 e le 4 mila lire. Ma è buonissimo! Eh già, aspetti, ma lei quanti anni ha? Io 34. Ah no, allora no, mi dispiace. Ma come? Eh, stiamo selezionando solo risorse fra i 19 e i 32 anni con 74 anni di esperienza. Mamma mamma! Eh, il mondo del lavoro funziona così, si informi, arrivederci.